mi piacerebbe sapere che telecamere usi per fare questi video mi piace proprio la qualità, i colori, tutte le cose che mostri sono bellissime mi dici per favore che attrezzatore utilizzi basso costo, alta qualità, semplicità, portabilità, buona immagine e buon audio utilizzando questi criteri ho scelto questi due apparecchi che mi accompagnano in tutti i video che faccio la prima telecamera, la mia prima scelta, il mio primo acquisto è stato questa Canon M3 è una DSLR ma compatta, cioè invece di quei macchinoni fantastici ma che costano un botto di soldi questa diciamo è una versione ridotta, compatta, a costi nettamente più bassi e con risultati come quelli che hai visto questa è una macchinetta piuttosto compatta, piuttosto piccola, maneggevole e relativamente leggera perché hai scelto proprio questa? la prima caratteristica vincente di questa telecamera è che è in grado di montare qualsiasi obiettivo Canon professionale utilizzando un adattatore dedicato che devi acquistare numero 2 anche questa bella macchina ha un visore piuttosto grande che puoi aprire e puoi ribaltare di modo da poterti vedere, verificare mentre ti fai le riprese quindi nonostante qualcuno sia preoccupato dal fatto che gli occhi che guardano sopra o dentro si possano notare secondo me il problema è risolto dal fatto che tu non hai bisogno di guardare sempre a te stesso ti puoi guardare per vedere se sei inquadrato bene poi guardi giù per fare il tuo video ogni tanto prendi una pausa, guardi su se stai ancora a posto e continui guardando giù cos'altro ha di buono questa Canon M3? ma di molto buono è il fatto che posso aggiungere un microfono esterno perché lei ha un buon microfono incorporato ma ovviamente è molto sensibile alle situazioni specialmente se c'è vento come qui sull'isola di Tersera dove non mancano giornate di vento sarebbe impossibile fare delle riprese affidabili se non avessi un microfono adatto quindi ho acquistato il microfono più economico che tra quelli diciamo seri era disponibile su Amazon eccolo qui è un microfono Rode fatto in Australia VideoMic costa 50-60 euro non molto questa peluche questa protezione che serve proprio per il vento è un'extra che ho acquistato separatamente perché lui viene con una protezione normale da microfono come ti aspetti normalmente di vedere il problema è che acquistando questo microfono e volendolo inserire sopra dove c'è lo spazio hot shoe per attaccare flash, accessori e altre cose nel momento che tu metti il microfono qua lo schermino non lo apri più per questo motivo ho cercato su Amazon un braccetto estensore come questo qui che ho trovato che consente proprio di agganciare questo braccetto estensore sopra il quale si può andare ad applicare il microfono eccolo qua ce lo aggancio sotto il microfono adesso sta di lato e posso ovviamente aprire comodamente lo schermo senza nessun problema altre cose interessanti di questa macchina può registrare ovviamente in full hd e puoi controllare manualmente tutte le sue funzioni Jobin che accessorio delizio l'unico elemento di cui non ti ho ancora parlato è questo è il joby gorilla pod che è un treppiede portatile molto comodo leggero flessibile che può essere utilizzato nelle situazioni più diverse perché lui è letteralmente in grado come un gorilla di agganciarsi ad un ramo di un albero ad un tubo innocenti di un'impalcatura o a qualsiasi oggetto che ti trovi a disposizione dove vuoi agganciare la tua telecamera eccola qua sul gorilla pod posso utilizzare la telecamera per riprendermi e fare le riprese che mi servono anche camminando o in situazioni dove sono in movimento costo della canon m3 è di circa 550 euro l'altra macchinetta che utilizzo è una canon g7x mk2 eccola qua è piccola portatile leggera compatta e se vuoi del tutto automatica ma per chi hai scelto proprio questo allora innanzitutto la qualità dell'obiettivo è molto buono un obiettivo canon con apertura massima f 1.8 quindi molto luminoso puoi fare delle riprese anche di sera o di notte con l'illuminazione che c'è intorno anche al lume di candela fa delle riprese eccezionali numero 2 ha uno schermino ribaltabile incorporato è in grado di riprendere in full hd sia a 25 che a 50 fotogrammi al secondo ha la funzione timelapse che è quella funzione con la quale tu puoi riprendere le nuvole che si muovono lentamente il traffico le persone di una città che vanno questi effetti particolari che avrei visto diverse volte nei video è possibile realizzarli anche con questa macchinetta infine ha una funzione di ripresa automatica che rende una stupidaggine fare qualsiasi ripresa pensa a tutto lei, ottimizza colori, luminosità, messa a fuoco e quindi quando hai bisogno di fare una ripresa al volo e non vuoi preoccuparti di niente questa macchinetta è in grado di fare il suo dovere cos'altro dire di utile di questa macchinetta? purtroppo hanno deciso di mettere i microfoni e gli altoparlanti in questa parte qua cioè nella parte superiore dell'apparecchio questo rende il microfono molto sensibile a piccole folate di vento che creano dei disturbi nell'audio inoltre questa macchinetta non ha una presa per microfono esterno in combinazione con la G7X MK2 utilizzo moltissimo questo paletto selfie che si chiama Smatry è veramente una bomba, perché? perché lo posso estendere fino praticamente a 163 cm posso addrizzare qua in cima, è un palo bello lungo guarda là dietro sta canna da pesca che ho e non solo, grazie a questo piccolo mini cavalletto che puoi aggiungere alla base dello Smatry puoi avere un vero e proprio treppiede in cima al quale appoggiare la tua Canon G7X lo trovo utilissimo soprattutto per i selfie, i selfie in movimento e con la stabilizzazione automatica che c'è dentro questa telecamera devo dirti non ti serve nient'altro di più complicato o costoso shopping! ma che serve qualcos'altro anche? ovviamente così come per tutte le telecamere che acquisterai è indispensabile avere una batteria di emergenza in tutte le situazioni per cui io ne porto una carica sempre in tasca eccola qua costo della Canon G7X circa 600 euro questa è tutta l'attrezzatura semplice e a basso costo senza troppi fronzoli che utilizzo per fare tutti i miei video e 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 Grazie a tutti.